Ciao a tutti ragazzi, sono L'Unico e Solo e oggi siamo finalmente tornati su Brawl Stars Oggi voglio fare un nuovo, come si dice, una nuova modalità che è uscita questa domenica Cioè il giorno in cui sto registrando e si chiama Ride, di cui tra poco vedete il gameplay Spero che vi piaccia, ho fatto un po' schifo per il fatto che comunque usando Bluestacks i comandi non vanno bene Non posso non abbo io, quindi comunque ho vinto, quindi a me va bene Oggi è uscito il Ride Il problema consiste, oggi l'ho già provato, in poche parole bisogna uccidere un Mega Brawler Il problema non è tanto il Mega Brawler che se io ci ho colto gli sto distante e quindi non mi colpisce Ma sono i robottini che stanno dietro e che attaccano quando possono Oggi ho provato la modalità facile, siccome voglio rovinarmi la vita, proviamo la difficile, se la connessione va Finalmente siamo nel Ride, perciò dobbiamo battere questo coso gigante che ci darà parecchi problemi Sta già iniziando a darne No, no, non venia da me Ecco, bravo Colt, colpisci Frank, allontanati Spara la super Bella, 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 bella Non si muove, non si muove, non si muove Colt Ok, ok Siamo a posto, siamo a posto Stiamo ammazzando sto coso Ok, sparo la super per indebolirlo Ok, mi faccio un po' di salute Perché sennò diventa un problema quando mi colpisce La vedo già giù un pugile Pugile me li mangio a colazione visto che ho Colt Cioè, quelli corpo a corpo io me li mangio a colazione con Colt Tanto Colt livello 7 mi sembra L'avevo portato al 7 o al 6 o al 7 comunque Una roba del genere Ok, perfetto, lanciato la super Perfetto Sto continuando a colpire Adesso Colt ha deciso di star fermo Bella per Colt, però dovresti tipo anche muoverti Sì, ma colpisci, no Non colpire a caso No, 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 mi uccide, mi uccide, mi uccide Non si voleva muovere Colt Vabbè ragazzi, non fatevi uccidere per favore Che questo coso qua lo dobbiamo distruggere completamente Non farti uccidere dalla sua mossa Non hai capito niente No, 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 non farti uccidere dalla sua mossa Non farti... Che super è quella? Eh ragà Ma non mi si vuole muovere Colt Non è possibile Mi sono bloccato i comandi Come al solito quando gioca a BlueStars Maledetto BlueStacks Non c'ho joystick per il computer Quanti pugili Mi hanno ucciso di nuovo Perché non mi si vuole muovere sto coso Ok ragazzi Quello usa la super Così se la sprecata Uno che sta lontani per non farmi risorgere tipo Di a fianco Ok, sono sopravvissuto Adesso facciamo un po' andare bene i comandi Ok, quel coso... Il robottone è praticamente morto No, no, no Scappa, 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 scappa Usa la super E l'abbiamo ucciso Dai Dai ragà Che siamo riusciti A battere Quel coso gigante E niente Questo qua è il ride Tra l'altro La mappa è Robolandia Se vi interessassimo non credo proprio E niente Io quindi vi saluto Perché volevo fare semplicemente questo ride E già ci sto scrivendo abbastanza Con i comandi per questo Quindi se faccio un'altra parte Sicuramente ci sclero il doppio Perciò se il video vi è piaciuto Come al solito lasciate un commento Mi piace Iscrivetevi al canale Se non siete nuovi Come al solito Social link in descrizione Gruppo telegram Solite cose E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti